Crescono i residenti di via San Biagio in centro a Padova pronti ad opporsi alla costruzione del maxi parcheggio interrato previsto nel progetto di recupero dell'area dell'ex intendenza. Della vicenda ci eravamo già occupati, ora le adesioni sono cresciute a dismisura e sono oltre 350 proprietari di appartamenti che si trovano anche nelle vicine vie altinate e Zabarella, tutti preoccupati per le conseguenze del parco interrato profondo oltre 11 metri, ben oltre la falda acquifera che passa di lì ad una profondità di 4 metri. Il timore è che si verifichino problemi strutturali o allagamenti. I residenti tornano a chiedere un incontro con la proprietà ma finora è sempre stato negato. Sicuramente avremo piacere di avere un incontro con la proprietà che abbiamo anche sollecitato, anche tramite gli articoli di stampa, tramite anche il subcommissario, però fino adesso non abbiamo avuto esiti positivi a questa richiesta. L'unico esito che abbiamo avuto alle nostre richieste è stato che la società si è dichiarata disponibile a fare questi sopralluoghi stati di consistenza degli appartamenti. Per il momento hanno solo ottenuto di poter fare una perizia sullo stato dei loro condomini, una sorta di assicurazione in caso insorgessero problemi strutturali durante il cantiere del parcheggio. C'è anche la proprietà pubblica che è fortemente interessata da questo problema. Stimiamo in tutto il cantiere un movimento di camion di circa 5.000-6.000 unità, se non di più. Queste di cui 2.500 sono solamente per la terra asportata dallo scavo, che è uno scavo di circa 26.000 metri cubi. Continueremo a seguire la vicenda fino a quando questi residenti non riceveranno spiegazioni sia dalla proprietà dell'area che dal comune.